terza. Buon salve e bentornati a No Mamamazzo, io sono Ernie e lui è al disco e sarà il mio ospite per questo episodio che aprirà una nuova rubrica che si chiamerà recensioni di recensioni. Noi recensiremo quello che troviamo su TripAdvisor, su Booking, su Amazon, su chi più ne ha più ne metta. Faremo gli stronzi con gli stronzi. Andremo un po' a ruota libera, taglieremo dove sarà troppo lunga la nostra chiacchierata. Andiamo subito a leggere qualche recensione assieme. Pub, recensione del 2015. Scusa se guardo la data, ma mi piace... Sapere se sono morti nel frattempo. No, sì, un po' quello, un po' mi piace calare nella situazione, nel contesto, perché se una recensione è fatta nel 2006, durante la partita dei mondiali, la finale dei mondiali, quando leggete queste recensioni... Mi sono trovato malissimo. Abbiamo perso. Abbiamo perso le partite. Oh, l'italiano. Thank you. Quando leggete queste recensioni dovete anche mettervi nell'ottica del fatto che chi le scrive probabilmente può essere pazzo. O comunque una persona problematica. Problematica. Quindi non date sempre per scontato che quello che scrivono sia vero, perché spesso e volentieri chi lo scrive è la persona che crea il problema a chi sta lavorando. Ma tra l'altro, secondo te, noi che recensiamo recensioni, cosa siamo? Agli occhi dei recensori. Se i recensori sono persone problematiche. Siamo dei recensori. Cioè siamo dei king... Ok. Secondo me, perché meno per meno fa più. Esatto. Quindi i recensori dei recensori sono normali. Stiamo bilanciando l'universo. Allora... Siamo a luglio 2015. Luglio 2015. Quindi immagino caldo, affa. Giustace. Anche il mese, vero? Probabilmente era una giornata di quelle dove... Mi immagino, mi piace pensare che sia stata una giornata che ha piovuto tutto il giorno. Ok. Sono le 8 di sera. È tornato un raggio di sole. Quindi domani si pronuncia una bella giornata. Ok. Per le persone. Di non lavoro, perché magari è estate. Magari è un bel sabato. Ma andremo a indagare se il 6 luglio 2015 c'era un sabato. Giudicate prima di trarre conclusioni. Con una stella. Quindi... Io se leggessi soltanto giudicate prima di trarre conclusioni, mi aspetto una recensione positiva. Esatto. Perché è una stella. Cioè, prima di... Magari vedete un posto brutto e dire... Quindi invece è ancora peggio di quello che è. Ah, perché giudicate... Ah, giudicate prima! Giudicate prima! Questa persona sta consigliando di giudicare... Sta consigliando di giudicare prima di trarre di trarre conclusioni. Quindi così... Passa davanti e dice... Posso di merda. Entro e faccio una recensione negativa. Faccio... No. Faccio una recensione negativa e poi entro. E poi... Quindi probabilmente questa recensione è stata fatta prima. Prima. Allora. Ok. Il titolare che non la passa liscia. Hai capito titolare? Hai capito. Se ci stai ascoltando titolare... Veniamo a farti brutto. Testa di cazzo. Conosciamo dei tizi. Che non la passi liscia. Non la passi liscia. Prima di buttare fuori gente innocente... Eravamo io. Stasi. La Franzoni. Raffaele Sollecito. Ero lì che voleva abberci una cazzo di birra tranquilli. Quando arriva questo qua... Quando arriva questo qua ci dice siete colpevoli. No. No. Prima di buttare fuori gente innocente. Perché siamo tutti innocenti. Verifichi... Verifichi chi aveva la tubercolosi... In che senso? C'è scritto veramente... Ma in che senso? Ma in che senso? Chi aveva la tubercolosi e tossiva col sangue accanto alla gente incinta? E poi parli. Che cazzo è una barzelletta? Eravamo io. La Stasi. Uno che aveva la tubercolosi e tossiva col sangue. C'era una gente incinta. C'era una gente incinta. Alla gente. C'era tanta gente incinta. Perché accanto alla gente incinta. Tu titolare devi giudicare prima di trarre conclusioni. Hai capito? Perché se tu vedi uno tossire non è che ha la tubercolosi. Tossire sangue a una persona incinta. Non è che sono per forza io. Primo. Magari ho solo scorreggiato. Magari sto tossendo sangue perché la gente incinta mi ha... Ha bisogno di una trasfusione. Cosa ne... Cosa... Cioè... Ma non è... Io sono ancora esterrefatto a tubercolosi. Comunque non la passa... Cioè comunque c'è da dire che detto questo. Questa persona che è stata buttata fuori con il... Tra l'altro era innocente. Accusata di tubercolosi. Ma accusata di tubercolosi. Cosa ha intenzione di fare per non farla passare liscia al titolare? Attaccarmi la tubercolosi. Esatto. Se io fossi in questa persona... Gli tossirei sul panino. No. Dato che non avevo la tubercolosi. La prendo. La prendo. Entro. E inizio a... Dato che me la sono presa... Esatto. Dato che ci sono... Esatto. Della prendo. La prendo. La tubercolosi e... E vado alla passi liscia. E vado a sanguazzare tutti i tuoi cazzo di... Tieni un po' di tubercolosi. Ho questa immagine. Bene. Per oggi è tutto. Se vi è piaciuto questo episodio mettete il like. Iscrivetevi al canale. Attivate la campanella delle notifiche. Condividete il video a chi volete. Vi salutiamo. Salutatemi. Vi abbracciamo. Io sono Ernie. E io sono Aldisco. Alla prossima. Grazie. Arrivederci.